Ciao a tutti, oggi siamo qua con Cristian e Anna Lena e parleremo dei paesi scandinavi. Quindi ragazzi, cominciamo subito a rompere il ghiaccio, chiedendovi un po' come è stato il primo giorno di scuola, quindi un po' l'impatto con la vostra nuova scuola. Ciao, sono Lena, sono stata un anno in Svezia e il mio primo giorno di scuola è stato più introduttivo per capire un po' come sarebbe stato tutto il mio anno, come si sarebbe diviso. Quindi sono entrata un'ora dopo rispetto all'inizio della scuola, quindi sono andata alle nove rispetto alle otto e venti. Ho conosciuto il mio tutor, l'insegnante che mi avrebbe aiutato con la scelta delle materie e quant'altro. Abbiamo fatto un giro della scuola che era enorme, quindi mi ha anche dato una mappa per aiutarmi ad orientarmi i primi giorni e poi abbiamo fatto tutta la parte un po' più scartoffie, che è per capire le materie, ho dato tutto il catalogo dalle materie che potevo scegliere. Ho fatto una serie di firme per esempio prendere un armadietto, l'avere il badge scolastico per poi avere l'accesso alla mensa e mi ha spiegato un po' come funzionava il tutto e ho avuto anche modo di partecipare a una lezione che era quella di linguistica umana. Quindi sono andata, mi ha accompagnato il mio tutor fino a questa classe che poi si è rivelata tipo la mia preferita in assoluto. Ah vedi, era il primo giorno, già la prima classe preferita. Sì, era stato un amore a prima vista. Perfetto. E invece tu Christian, come l'hai vissuto? Ma il mio primo giorno è andato molto bene. E' stato anche il mio molto introduttivo, come ha già detto Lena. Sono arrivato a scuola in orario, in realtà con... Tu dove eri? Danimarca. 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 E sì, sono arrivato a scuola col mio host dad che per la prima ora, ora e mezza, è stato lì con me insieme agli altri exchange student e con le altre famiglie ospitanti e abbiamo incontrato la nostra tutor scolastica, ci ha spiegato un po' come funzionassero gli orari delle lezioni, la mensa e così via. Poi ci hanno fatto entrare nelle nostre classi, noi ci siamo presentati, abbiamo fatto un attimo di accoglienza e poi io insieme a una ragazza che era, diciamo, il mio tutor, tra gli studenti, mi ha fatto fare un giro della scuola, mi ha fatto vedere un po' le classi, i laboratori. Io ero in una scuola in dirizzo scientifico, quindi mi ha fatto vedere tutti i loro laboratori e poi ho finito prima, se non sbaglio, prima rispetto agli altri, verso mezzogiorno e sono tornato a casa. Quindi è stato molto tranquillo, non ho fatto lezioni, ma solo un giro in generale della scuola un po'. Mi hanno presentato ai docenti e ai miei compagni di classe. Quindi è un po' conoscitivo, diciamo, per entrambi. Esatto. E invece io ho una domanda, sempre per entrambi, perché sono molto curiosa, per il topic lingua, perché comunque è diversa. Quindi, Annelia, tu come hai vissuto questa differenza linguistica? Allora, partiamo dal fatto che io non sapevo parlare lo svedese prima, cioè sono partita, ho preso un libro per principianti, sapevo dire come mi chiamassi e da dove venissi. I primi mesi l'ho parlato soltanto in inglese, anche perché la mia famiglia ospitante, la mamma ospitante, era un exchange student in America, quindi parlava benissimo l'inglese. Quindi da questo punto di vista sono stata un po' pigra, perché non mi spingevano, non mi forzavano a parlare lo svedese, ma a scuola la mia unica materia obbligatoria era proprio svedese per non madrelingua, viene chiamato letteralmente svedese per immigrati, ed era tutto un corso base di svedese per impararlo, per capire come avviare proprio la conversazione, capire come era la struttura e poi passare a quella versione un pochino più advanced, che era svedese come seconda lingua, che ho iniziato verso novembre. Però alla fine la comprensione della lingua avviene prima rispetto al parlato, almeno secondo me, ed è quindi io verso novembre già comprendevo se una persona mi parlava abbastanza lentamente, riuscivo a capire, però il parlato è arrivato a febbraio, tra una cosa e l'altra, e poi lo scritto è arrivato ancora dopo, credo verso aprile io abbia fatto il mio primo compito in classe completamente svedese, però è una cosa che bisogna avere molta pazienza e volersi tanto bene, perché ad esempio io mi mettevo molta pressione riguardante il fatto che non lo sapessi parlare, magari in confronto agli altri exchange che lo sapevano già parlare, quindi là bisogna essere un po' più gentili con noi stessi, perché io ero molto tipo devo impararlo e non mi facevo del bene, mi mettevo solo pressione, poi appena me la sono messa via che avrei imparato quel che avrei imparato, improvvisamente andavo da Dio. Quindi è stato proprio un flusso poi spontaneo. Sì, è molto graduale, certamente le classi aiutano, ma secondo me la cosa più importante è il poter parlare, soprattutto con la famiglia, fin da inizi, è insistere che ti parlino in svedese, perché la cosa diciamo è che loro sono gentilissimi, cercano di metterti il più agio possibile e quindi parlano l'inglese, perché loro lo parlano benissimo, tanto che ovviamente ti impegnisci perché non sei costretto a parlarlo, in un certo senso come magari succede in altre lingue, perché magari come paese non parla molto l'inglese, magari come succede con altri paesi. Certo, e invece Christian, tu come l'hai vissuta? Anche io, come lei, ho iniziato senza nessuna base di danese, anzi, avevo fatto qualche lezione tipo su Bubble, così, ma quando sono arrivato là mi sono reso conto che delle cose che sapessi, niente, era particolarmente corretto. Mi sono affidato molto sull'inglese all'inizio, perché la mia famiglia ospitante parlava benissimo l'inglese e in realtà tutti parlano un inglese perfetto e quindi per quello sono stato anche io un po' pigro, ci ho messo un attimo a impararlo, anche perché avevo tanti exchange student nella mia scuola, eravamo in cinque solo nella mia scuola, quindi lo scambio in inglese era molto frequente. Poi ho seguito un corso che ho organizzato la mia scuola per, sempre danese per principianti, insieme al mio tutor, quindi il mio tutor, il counselor scolastico, era anche il mio insegnante di danese privato, diciamo, che facevo una o due volte a settimana in alcune lezioni, saltavamo e facevamo danese per principianti. Come ha detto lei, avviene prima lo step di comprensione e poi il parlato arriva dopo come un'esigenza più che altro, per inserirsi meglio nel gruppo proprio della classe o comunque la situazione nel paese, perché tutti parlano inglese, però a volte non è che li metti in difficoltà, però il loro modo di esprimersi ovviamente non è lo stesso nella loro lingua madre o nell'inglese, per quanto siano bravi, quindi in alcune conversazioni è difficile entrare se non sai la lingua. Magari capisci, però poi devi intervenire in inglese, quindi sei anche un po' limitato, però col tempo, ci si arriva al tempo e tanto impegno e voglia di farlo. Però sì, è importante spingere molto anche sulla famiglia perché si parli in lingua madre, non in inglese. Io l'ho avuto dopo, verso gennaio, che i miei genitori ospitanti mi hanno detto ok, da oggi parliamo solo danese, se non capisci qualcosa ci chiedi, ripetiamo, se non capisci traduciamo in inglese, però di base tu devi venire a casa, raccontarci cosa hai fatto a scuola, cosa mangiamo stasera, tutte le cose, conversazioni base, tutto in danese. Quindi sì. Piano piano, diciamo che ovviamente è una lingua più difficile, quindi ci vuole un po' di tempo. E invece, Annalena, il sistema scolastico svedese, che poi in realtà, diciamo che in tutto quello che è il mondo dei paesi scandinavia è abbastanza simile anche alla Norvegia, per esempio, come ne hai trovato la differenza? Allora, partendo dal presupposto che io ho fatto una scuola un po' particolare, poiché era pubblica, ma indipendente dalla linea guida del Ministero dell'Istruzione Svedese, quindi era un po' più su stampo americano, la scuola tradizionale svedese è abbastanza simile a quella che abbiamo noi in Italia, quindi hai una classe fissa, quindi stessi compagni, non vai a cambiare ogni ora la tua aula, i tuoi compagni, scegli un indirizzo, quindi ad esempio io nella mia scuola c'erano tantissimi indirizzi, come c'erano anche altri miei amici exchange italiani, sempre nella zona, che erano in altre scuole, che avevano ad esempio l'indirizzo scientifico, l'indirizzo umanistico, magari anche l'indirizzo musicale, e poi ci sono credo delle due o tre, forse su due facciamo materie facoltative, che sceglievi, che decidevi, magari era una seconda lingua, magari era un qualcosa, magari che ne so, un corso di arte, e in genere si sta a scuola per più tempo rispetto a quello in Italia, ad esempio facevo dalle 8.20 alle 4, si mangiava lì, però ci sono molte più pause, io da una lezione all'altra avevo un quarto d'ora circa di pause, a 10 minuti e un quarto d'ora, quindi fondamentalmente la nostra ricreazione ogni ora, e poi avevo un'oretta di pausa pranzo in mensa che era gratuita per tutti gli studenti, e quindi stiamo a scuola per più tempo, ma è anche più tempo libero mentre sei a scuola, quindi moltissima gente che ne so, andava in atrio sui degli uanetti, parlavo, si trovava all'aula studio, dove andava a fare i compiti, anche perché magari c'erano delle ore in buche in base all'orario, e è un sistema che secondo me mette meno pressione agli studenti, cioè io mi sono trovata molto rilassata, i professori erano gentili, si facevano chiamare con nome, cosa che è stato uno shock assurdo agli primi giorni, erano molto più, non dico che fossero completamente tuoi amici, ma c'era tolta molto la barriera della formalità, si era completamente tolta, anche perché ad esempio lo svedese come l'inglese non ha lei, e quindi ci si dà tutti del tu, e secondo me anche quella lì toglie abbastanza questa rigidità che a volte si ha nel sistema italiano. In più erano ad esempio, non davano così tanti compiti, non c'erano tantissimi compiti in classe, o le interrogazioni erano più presentazioni o dibattiti scolastici, quindi non era semplicemente l'insegnante ti fa le domande e tu rispondi, quindi era molto più rilassato. Infatti io ricordo che a volte c'erano dei compiti, dei test, per cui i miei compagni di classe magari erano spaventatissimi, ansiosi, ero tipo questo per voi è ansioso? No, 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 non ho capito, non ho capito il gioco. E quindi sì, è un po' più rilassato, si dà molta più importanza allo studente rispetto al voto. Infatti se magari fallisce un test, ti lo fanno rifare il test, magari con domande diverse però ti danno più tempo, e si lavora per migliorare quella competenza. Si concentrano più su quello che sai, piuttosto che quello che magari il voto è effettivamente. E che comunque è importante. Tu, Christian, trovi che sia simile in Danimarca? Molto, molto simile, sia come struttura del sistema scolastico. In Danimarca non esistono scuole private pubbliche, sono tutte pubbliche, e con vari indirizzi in cui tu poi hai dei corsi specifici per indirizzo. Io per esempio ero un indirizzo biochimico, quindi un po' più specifici rispetto a quelli italiani. Non c'è solo scientifico, ma c'è biochimico, fisica e biotecnologie, tanti rami diversi, un po' più specifici. Non hai una scelta delle materie tipo americano, ma puoi portare delle materie a dei gradi successivi. Diciamo che la scuola superiore, come la intendiamo noi, dura tre anni. Ogni materia può essere di grado A, B o C, a seconda che duri tre, due o un anno. Quindi tu magari parti con le materie di grado C, che sono quelle di un anno, e poi puoi scegliere di portarle avanti anche gli altri anni, quindi avere, non so, matematica A per tutti i tre anni, oppure prendere altre materie nel secondo e nel terzo anno, sempre di grado C, come per esempio nella mia classe alcuni avevano scelto di fare filosofia al terzo anno. È una materia di un anno solo, quindi si prende il grado più basso, però si può scegliere. Le classi sono tutte unite, si ha un unico gruppo classe che sta in aula, se non per chimica o biologia, dove ci spostavamo in laboratorio, e di base si è tutti uniti. Ci si divide, ecco, quando si prendono magari questi corsi facoltativi, diciamo, in cui poi si va a dividere la classe e a unirsi con altre persone di altre classi. È tutto molto più tranquillo, come diceva Ray, informale, anche da me si dava del tu e si chiamavano i professori per nome, che i professori hanno anche una mentalità molto più aperta nei confronti dello studente. Lo studente è molto più libero, ma è anche molto più responsabile. Per esempio, non esistono i colloqui, non ci sono i colloqui genitore-studente, perché si fa molto affidamento sul senso civico dello studente, che fa da solo i suoi colloqui. Un paio di volte all'anno si fa, di solito, c'è un'ora di una materia in cui il professore esce, i ragazzi sono dentro a lavorare o comunque a fare qualcosa, e uno alla volta si esce, si parla dei voti, si dice cosa si può fare per migliorare, ed è una cosa molto molto meglio, perché lo studente si sente sia più libero, ma anche più responsabile delle sue scelte. È consapevole che se prende un brutto voto è su di lui che ricade, non sulla famiglia o magari la sgridata del genitore. L'unica persona che ci rimette a un brutto voto è lui. Le bocciature sono pochissime e solitamente sono legate all'assenza, neanche ai brutti voti, nel senso raggiungi un limite massimo di assenze, non passi l'anno o non passi la classe, perché anche questa è una differenza. A volte si può non passare una classe, ma passare il resto delle materie. È capitato per esempio a un mio amico, che lui era un giocatore professionista di pallamano, e quindi non aveva passato la classe di religione per le assenze. Era un anno più grande, ma veniva a fare religione con noi, si doveva fermare quell'ora e mezza in più a scuola. Anche perché le lezioni sono divise per moduli, ogni modulo dura circa un'ora e mezza, e si ha poi un quarto d'ora di pausa tra un modulo e l'altro, e un'ora, un'ora e mezza di pausa per poi il pranzo. Quindi si sta a scuola di più, ma come diceva lei si ha più pause e si è molto più liberi. Ok, Narena, invece per quanto riguarda lo sport, quindi le attività sportive, come è gestita in Svezia? Sì, allora, non è come in America, perché la scuola è il centro sociale, quindi si studia, si mangia, si fa sport, si fa di tutto, ma invece è un po' come in Italia, che finita la scuola ci sono attività extra scolastiche, che sono proprio da società a sé, quindi non è fatto con la scuola. E, ad esempio, io facevo scherma, io facevo scherma sia in Italia che in Svezia, e là, ad esempio, una cosa che secondo me non c'è in tantissimi posti è il fatto che fossero tantissimi sconti per studenti, quindi, ad esempio, non era proprio... la scuola non c'entrava, ma se tu mostravi che eri uno studente, ti faceva un grandissimo sconto per quanto riguarda, magari, l'accesso alla palestra o, appunto, l'accesso a certe attività o anche, ad esempio, il teatro, il cinema, cose del genere, quindi ti tacciano tanti sconti. Quindi diciamo che la vita sociale si spostava, finita la scuola, si spostava o nello sport, ad esempio, dato che c'era molto freddo, c'erano tantissimi centri commerciali più o meno grandi in cui fondamentalmente andavi là e uscivi al centro commerciale che così stavi al caldo, non congelavi, soprattutto dell'inverno, e quindi diciamo che la vita sociale si sviluppava lì ed era fuori dalla scuola, la scuola non offriva attività, nonostante magari ci fossero delle attività tipo il torneo intrascolastico, però non era proprio ogni giorno c'era l'attività come c'è in America, era molto da fuori, esterno. Ok, quindi un pochino più esterno. È come in Italia, esatto. Perfetto, e invece, Cristian, per quanto riguarda gli spostamenti, quindi andare anche da casa a scuola, come ti organizzavi? Io sono stato fortunato perché abitavo molto vicino alla scuola, era un chilometro più o meno, ma era un'unica strada dritta, quindi mi svegliavo la mattina, andavo a scuola a piedi e tornavo a scuola a piedi. Per quello è stato molto comodo. Poi avevo degli amici che abitavano un po' più fuori, ma i mezzi pubblici non sono un problema, almeno nel mio paese dove abitavo io, c'erano treni, pullman a tutte le ore, più o meno, anzi, più per ora, ed erano sempre super puntuali, e quindi lo spostamento era anche abbastanza comodo, sia la mattina che il pomeriggio che la sera. Banalmente anche andare in Germania, io abitavo vicino al confine, e mi capitava magari di uscire da scuola, magari un'ora prima, perché non c'era un insegnante, o per altri motivi. Io e la mia amica prendevamo il pullman, arrivavamo in Germania, facevamo un giro, tornavamo su. e non ci sono mai stati ritardi, anzi, con un ritardo troppo grande, ti rimborsano anche il biglietto, quindi, davvero comodissimo, da quel punto di vista. Non proprio come in Italia, No, assolutamente. Con i ritardi. Ok, adesso una domanda per entrambi, visto che entrambi avete fatto l'anno intero, la vostra scuola organizzava delle feste, organizzava qualche evento? Allora, la mia scuola organizzava eventi, ma più per i ragazzi del terzo anno, che anche lì in Svezia funziona a tre anni, quindi 16, 17, 18 anni fondamentalmente, quindi io ero al secondo anno, ma avevo un sacco di materie col terzo, e quindi partecipavo a vari eventi anche del terzo anno, quindi dato che si stanno per diplomare, sono tutte fondamentalmente feste pre-diploma, oppure ci sono delle feste che organizzano più, c'è il comitato degli studenti della scuola, che organizza tutte le varie attività, magari, cioè ogni venerdì ci stava la gara del venerdì, che quindi era una piccola gara in caffetteria, che vincevi magari delle caramelle o qualcosa del genere, e che era organizzata appunto dal comitato studenti, che poi organizzava anche, che ne so, la festa di Halloween, oppure il pigiama party a scuola, quindi tutti dormivano la notte, andavano a scuola la notte, ma era più per studenti maggiorenni, perché ovviamente togli una grossa responsabilità, che non devi fare moduli particolari, cose del genere, quindi c'erano più attività diciamo fuori dalla scuola, la scuola in sé non organizzava parecchio, però magari c'era il passaparola della festa di qualcuno, e tu magari andavi, ed è molto più tranquillo secondo me con la scuola, cioè non era qualcosa di eccezionale, tra mega, un po' non ci si immagina al Super Bowl, quando c'è un evento scolastico per dire, ma era una cosa tranquilla, ad esempio ci stava anche l'alcol, ovviamente noi non potevamo bere per regole, però erano gli stessi professori che controllavano, in modo che fossi un ambiente sicuro, per poter anche capire un po' i propri limiti, quindi era fatto proprio per capire, quello che dopo succederà dopo in futuro. E invece nella tua scuola Cristian? Ai danesi piace molto fare festa, tanto, anche col fatto per esempio che la birra, è legale dai 16 anni, nel senso che già da 16 anni puoi prendere la birra, gli piace molto bere, fare festa anche a scuola, non solo ai ragazzi, anche ai professori. Infatti la mia scuola organizzava molte feste, circa una ogni due mesi, anzi forse anche di più, poi dipendeva Natale, Halloween, e solitamente erano organizzate da un gruppo di ragazzi in collaborazione con esterni, che nel mio caso si chiamava E69, e è partito l'anno in cui sono arrivato io, quindi prima non so bene come facessero, però l'anno in cui sono arrivato io ho iniziato questa collaborazione e quindi facevano un sacco di feste a tema, tipo abbiamo fatto una festa a tema fluo e dovevamo venire tutti vestiti fluo, una festa a tema gangster e dovevi andare tutti vestiti da gangster. ed è molto sentita questa cosa. Molti studenti partecipano, le feste si fanno a scuola e spesso sono presenti anche i docenti, però i docenti sono lì comunque, sì per controllare, ma per passare una bella serata, non sono lì a fare i controllori poliziotti, anzi, sono lì, magari li trovi anche che stanno bevendo una birra insieme a uno studente e si chiacchiera. Poi come ho detto, ai docenti piace molto fare festa, quindi iniziano prima, dopo scuola di solito si va a casa di qualcuno, si fa un pre-party, poi si va alla festa e poi dopo la festa si va in città per locali, diciamo così. E questo era un tipo di feste, il tema feste. Poi c'erano altre feste invece un po' più scolastiche, diciamo, che erano legate proprio alla scuola, tipo il compleanno della scuola in cui bisogna vestirci un po' come al nostro carnevale, ogni classe ha un tema, noi eravamo dottori, se non sbaglio, c'eravamo vestiti da dottori, eravamo andati a scuola e si fanno delle attività, ci sono gare di corsa, ci sono gare di vogatori e poi si sta a scuola, si fa la festa fino alla sera, quindi sì, ci sono anche diverse feste organizzate, anche su più giorni, per esempio i manager che si fanno verso aprile e maggio nella mia scuola sono una competizione di calcio, sempre lì in costume, tipo carnevale, perché gli piace travestirsi a quanto pare ai danesi, e si va lì, si gioca a calcio, si sta insieme e poi si va a casa di qualcuno, si continua la festa e poi si fa anche il giorno dopo in orario scolastico, questa cosa qua. Quindi comunque si festeggia. Sì, sicuramente. Invece, Anna Lina, per quanto riguarda i libri scolastici, è come in Italia o è diverso? No, loro hanno tutti i libri incomodati ad uso, quindi la scuola ha un'enorme libreria dedicata solo ai libri scolastici, tu all'inizio dell'anno o anche nel metà dell'anno se magari cambi materia, hai bisogno di libri, vai in questa libreria, mostri il tuo badge scolastico e loro ti registrano, il fatto che ti abbiano affidato quei libri, lo registrano nel sistema e quindi sono completamente gratuiti. Ovviamente però non è che puoi evidenziarci con evidenziatore sotto a matita e anzi dovevi, dopo quando lo riconsegnavi, loro controllavano che non avessi scritto a penna o avessi evidenziato con appunto un evidenziatore o pennarello perché dopo sarebbe dovuto andare a qualcun altro quindi lo controllavano e nel caso fosse rovinato dovevi pagare una penale altrimenti sarebbe stato completamente gratuito. Ok, quindi molto comodo, molto più comodo. E invece ho una domanda per Cristian, mi rilaccio un po' al tema festa. Ovviamente la famiglia ospitante ha anche un ruolo di controllo, di regole, quindi un po' anche di tutela perché hanno una grande responsabilità. Quindi la mia domanda è tu come hai costruito il tuo rapporto di fiducia con la famiglia? Col tempo sicuramente, però diciamo che sono stato molto molto fortunato ad avere dei genitori estremamente open mind che quindi mi hanno sempre dato tanta fiducia, poi non ho mai fatto nulla per diciamo tradire questa fiducia quindi è sempre andata bene, è sempre stato un rapporto di fiducia in cui gli raccontavo quello che facevo e loro magari mi davano anche consigli e così. Poi i miei genitori ospitanti avevano tre figlie, una più grande di me che quindi aveva già passato diciamo questa fase in cui ero io ed era già fuori a vivere per l'università e due gemelle che erano un anno più piccolo di me e venivano nella mia stessa scuola quindi diciamo che erano, si fidavano di me, c'erano anche loro in giro comunque io ero con loro loro erano con me c'è sempre stato questo bel rapporto in famiglia e non abbiamo mai avuto problemi sulla fiducia. Ok, vi faccio un'ultima domanda che rivolgo ad entrambi preferite il sistema scolastico italiano o quello appunto svedese e danese? Diciamo che è abbastanza abbastanza ovvia come risposta sono trovata incredibilmente bene con lo svedese dà molta più responsabilità allo studente e non ti tratta un po' da carcerato in un certo senso ti dà la responsabilità e tu devi ricambiare con questo col tuo impegno quindi però comunque rimane sempre abbastanza più meno stressante però alla fine non posso dire che sia più semplice perché sono soltanto metodi diversi però alla fine le cose che ho imparato lì avrei fatto anche qua in Italia quindi non ho molto contento E invece Cristian? Io volevo rimanere su quindi già questa è una risposta se non avessi dovuto fare due anni su perché per prendere il diploma ci vogliono almeno tre anni o comunque il due più uno sarei rimasto su però poi appunto si sarebbe allungato il percorso e quindi ho deciso di tornare in Italia finire questi dieci undici mesi di scuola che rimanevano e basta però sì io ho preferito di gran lunga il sistema scolastico danese più che altro per una questione proprio umana per come lo studente viene visto nel contesto sociale nel contesto scolastico per le responsabilità che vengono date allo studente per il fatto che non sei trattato come un carcerato ma neanche come un bambino si comportano con te come se fossi un adulto perché effettivamente sei intorno ai 18 anni stai diventando maggiorenne quindi cercano anche di darti più responsabilità c'è meno ansia c'è meno stress forse il sistema scolastico ti prepara un po' meglio dal punto di vista puramente nozionistico quindi io ero molto più avanti di loro su alcune cose proprio per come sono stato per come sono stato abituato a studiare però per me è un sistema altrettanto valido quello danese e che funziona molto molto bene quindi preferisco quello danese entrambi votate sì assolutamente diciamo che moltissimo almeno nel mio caso il liceo era preparatorio all'università quindi moltissimi argomenti li facevano un po' più leggeri meno approfonditi ma perché dopo li tavano tutte le possibili fonti se ti piaceva l'argomento potevi approfondirtelo da solo poi magari potevi continuare all'università quindi era un semino tanto per capire dopo al ragazzo cosa vuole fare più tardi quindi era proprio propenso all'università perfetto ragazzi vi ringrazio tantissimo è stato molto utile del vostro contributo e alla prossima allora grazie mille ciao a tutti ciao ciao